Capire al meglio le potenzialità del proprio personale per sviluppare il talento dei dipendenti significa massimizzare anche i risultati dell'azienda. Il talento va indubbiamente sviluppato. Noi applichiamo da anni assessment, metodologie di assessment, e quindi abbiamo visto i risultati di questi assessment danno sempre per ogni persona delle capacità prevalenti. È chiaro che lo sviluppo del talento deve essere fatto cercando di impiegare al meglio e quindi favorire per ogni persona l'utilizzo delle proprie capacità prevalenti. Quindi penso che lo sviluppo del talento sia più che altro questo, cercare di indirizzare le persone, come dicevano prima anche i relatori, a fare anche quello per cui sono bravi e hanno maturato l'esperienza corretta. Poi evidentemente le aziende sono anche fatte non solo di grandi talenti ma sono fatte anche di persone che quotidianamente svolgono correttamente il loro lavoro, anzi la maggior parte è questo. Quindi bisogna anche fare attenzione e avere un giusto equilibrio tra la gestione del talento e la gestione comunque della grande popolazione aziendale. Il talento deve essere modellato sulle esigenze dell'impresa in modo da aumentare la produttività. Non abbiamo dei talenti in azienda, abbiamo però individuato tutte le persone il talento e quindi cerchiamo di lavorare sul loro sviluppo e sulla loro crescita compatibile con il loro sviluppo del business. Quindi non c'è il talento in astratto, c'è il talento associato alle strategie aziendali e in funzione del business e delle sue richieste. Le aziende lavorano per formare personale qualificato in base alle proprie esigenze. Il talento non si forma, si lavora giorno dopo giorno pensando a dove sta andando la società, lavorando e dando opportunità di sperimentarsi, di fare cose, di nuovo non in astratto ma perché servono alla società. Lavorando con il management perché ci siano posizioni e spazi, progetti in cui inserire le persone, avendo in mente che comunque se c'è impegno e desiderio le opportunità nel tempo emergeranno. Comunicare notizie, scelte e i movimenti dell'azienda aiuta a coinvolgere i dipendenti e a motivarli. Penso che sia un fattore fondamentale, in quanto soprattutto in aziende come le nostre che sono delocalizzate geograficamente, abbiamo sedi in Emilia, in Piemonte, in Liguria, abbiamo circa 4.500 dipendenti. È impensabile che si possa raggiungere con il passaparola, capo collaboratore, tutti i dipendenti delle nostre imprese. E oggi l'aspetto, diciamo il contesto in cui lavoriamo, che si è particolarmente modificato un po' dalle normative delle autority, un po' dal fatto che siamo gruppi grandi quotati, un po' che a breve andremo a gara per l'affidamento dei servizi che oggi gestiamo. Ci troviamo in un contesto appunto dove servono caratteristiche, competenze, capacità diverse da parte dei nostri dipendenti. Non ultimo la motivazione, quindi non solo la flessibilità, la capacità di perseguire efficacia, efficienza. La motivazione penso sia un aspetto oggi fondamentale. Il mantenere i dipendenti motivati, ci sono strumenti, sì, di compensation, però anche il coinvolgerli e renderli partecipi di quello che sono le attività aziendali, strategiche anche, e anche di quello che riguarda magari i competitor più vicini, penso sia un elemento fondamentale. A me piace fare un po' il paragone, siamo un po' un organismo umano come azienda. Funzioniamo bene se tutti gli organi funzionano correttamente fino all'ultima appendice del piede, quindi per poter funzionare bene ci vuole un sistema che l'interconnetta anche correttamente. La comunicazione penso sia uno strumento fondamentale. Un esempio positivo è il caso Berenson. Investiamo molto in recruiting e nello sviluppo delle persone, quindi nella formazione, nel training, e siamo stati scelti come tra le tre migliori società nel tema di individuazione, gestione e motivazione dei talenti. Noi da circa cinque anni che abbiamo elaborato proprio un programma per far entrare molti nuovi venditori, quindi molti giovani e non solo, delle persone, delle donne che vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo che hanno avuto uno, due, tre figli e hanno degli ottimi risultati.